8 partite di campionato, si blocca la coppia-gol e Brega-Granito e il Ponzacco non riesce a vincere. Vabbè, quella coppia-gol, anche se oggi un segnavo, segnava un altro uguale. Mi spiace che abbiamo perso, una partita non giocata benissimo, un po' sotto tono. Loro praticamente, anche loro non hanno fatto niente di che, abbiamo regalato un gol che si poteva anche evitare. Ecco, le squadre che vi affrontano in 10 uomini dietro la linea della palla, vi chiudono tutti gli spazi e anche come domenica, una partita che si prende un gol dopo 10 minuti, poi è dura recuperarla. Oggi il gol è arrivato a 5 minuti alla fine, quindi non c'era più il tempo nemmeno per provare a recuperarla. Cosa è mancato per riuscire a scardinare la difesa della Forti sul Lucchese? Vabbè, è mancato un po' più di convinzione, sicuramente abbiamo pagato un po' fisicamente. Io parlo personalmente, non ero brillantissimo come sempre. Domenica nel secondo tempo abbiamo proprio cambiato ritmo, oggi non ci siamo riusciti. Ci siamo fatti riprendere dalla partita che volevano fare loro, un po' sotto tono, rallentata, perdita di tempo. Poi alla fine abbiamo subito anche la beffa, però partita 0-0 non è che si poteva nemmeno vincere. Da fuori quello che sembra manca anche un po' di cattiveria a livello agonistico. Come mai l'approccio, anche la partita al primo tempo, ha buttato via? Sono già tre partite che ai primi tempi non vengono praticamente giocati. Sì, magari paghiamo anche un po' che giochiamo sempre gli stessi, ben venga di giocare, però magari non avendo cambi, non so. Alla fine poi alla lunga la paghi, oggi speriamo sia stato oggi che abbiamo pagato tutte, la domenica di ricominciare a vincere e continuare a fare quello che stavamo facendo fino ad ora. Bene, ringraziamo anche Giannato Gradito.